Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Simonata409 e oggi siamo qui in questo nuovissimo video su Rainbow Six Siege, oggi ci andremo a fare qualche partita su Rainbow Six per vedere se sono migliorato o peggiorato oppure un po' per riscaldarci, non riesco a parlare, guardate oggi non riesco a parlare, mi metto subito questo operatore, è alibi bellissimo, l'ubilatule molto bello, me lo metto perché oggi ho aperto un pacchetto e in questo pacchetto mi hanno dato una mimetica che è quella dei pacchetti nuovi che ti danno, me l'hanno dato gratuito e ci ho trovato questa mimetica che è fighissima credo alleluia, me l'ha trovata prima una partita, cioè prima vi avevo registrato un video, raga me l'avevo registrato ma non lo metto sul canale perché sono stata mezz'ora là a trovare la partita, vi giuro non mi caricava, c'è te Simone pure Valerio, questa in party, buon salve dice sempre Valerio, sempre buon salve, perché dice sempre buon salve uno lo metto qua uno qua e uno qua e uno qua beccato infatti il regal che sport un po' con i cammi qua sportato vediamo un po' a noi un po' di passaggio e mettiamoci non ci credo sta sopra da cavera o da rianimare che via Sì 10 ma massimo del conto 5 vediamo un po' guarda non so questa c'è anche non lo so questo è quel pombo no ho sbagliato io ecco lo so fare col pompa no con l'assalto silenziato ma lei perchè non ti rinnovi l'online e vieni a giocare con me arrivo guardiamo tutto perfetto dove sta il drone dove sta il drone eh dove sta il drone quello là raga il lag il lag il lag raga perchè mi lag guarda quel drone raga le metto uno qua e uno lo mando il lag no, non ci credo ha rotto il drone no dai, ma l'ha ucciso a vicenda regà regà, dietro di te maledizione dai zombie, sto zombie cioè, ha ucciso l'amico per quanto è stupido però è forte cioè, vedi che è forte no sludge seo anzi, maverick no, è lion mettiamoci il lion ma sto qua usa asce con la carabina vabbè ma sempre in tre ma nessuno si vuole unire alla nostra partita stanno sopra no è pronto ma deve aspettare eh, regà, io tra un po' devo andare perché c'è mi madre ha preparato da mangiare e quindi devo andare però lo voglio finire regà perché devo finire il video amico, rilevato all'esterno vado a fambravo levate levate regà, l'abbia lei io l'ho aiutata all'esterno No, da dietro, da dietro, porco limone No, da dietro Guarda che pesci ho trovato, è salta pure questa No, mi hanno ucciso Ho trovato questa bicicletta che salta, non è via me, non è via me Non è via me, non è via me Non è via me Beh, raga Beh, c'è pure questa salta Beh, raga Se vincono pure queste round abbiamo perso Siamo comunque tre contro tre Eh, Valè, la vedo dopo la foto Cioè, c'è presente una macchina con il coso che trasporta le cose dietro? Che? Eh Con la barca, tipo Eh, no Cioè, quello che dietro c'ha tutte le cose dietro ascoltando Ah, sì, ho capito Ok Quello bianco, quello bianco No No È quello antico, quello là, tutto arrugginito No Vabbè, intanto mi hai mandato la foto, vero? Eh, sì, però no di quello Allora, è tutto il pick-up? Sì Vabbè, dietro il coso Ecco, ecco, ecco Ok, vi sto mandando schiena Ok Ah, ma stavano sotto Non si vede da dietro, ma non si vede molto bene Hanno vigile Sì Vedo dopo, guarda, un attimo Vabbè, insomma, quello L'ho saltato E mi c'è incastrata la bicicletta all'edietro Quindi mi ha sticcato la bicicletta Capito Non so dove stanno, raga Eh, guarda che bello Ho visto il drone di eco Stanno là Vai Uscite Oh, dove sta il drone di eco Ma lo voglio sapere Sta da qualche parte là sopra Comunque Se continuiamo a stare qua Ci stunna sempre Lo voglio vedere dove va il corpo Sì, sono stato spettato, lo so Vabbè, raga, dobbiamo entrare Eh, maledetto l'eco Ecco, ecco, ecco Dove qualche parte Raga, ultimo round, credo Quindi in pratica che vince questo vince tutto Ecco, ritorni un'altra riga Ecco, ritorni un'altra riga Strovato Hanno vincitato Ecco lì gli sponchilloni Ecco lì Ecco lì Ecco lì gli sponchilloni Ecco lì gli sponchilloni No, non ci credo Per prendere il drone ti è Vediamo i nostri compagni Che cosa riescono a fare Vabbè Raga, spero che il video vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo di lasciare like Attivare la campanellina E di iscrivervi al canale Ciao raga E di iscrivervi al canale E di iscrivervi al canale E di iscrivervi al canale